Il corpo umano deve seguire dei dogmi ben precisi, che sono i dogmi del proprio sistema immunitario, del proprio DNA. Non sono i dogmi che noi ci fichiamo in testa, assolutamente. E così deve essere fatto da ogni essere vivente, ogni pianta deve avere il suo terreno adatto, ogni pesce deve avere la sua alimentazione e la sua acqua adatta, altrimenti si salta per aria. Non è come uno dice, adesso decido che devo mangiare questo, questo e basta e del resto non ne voglio più sapere. È un grosso errore, è un errore di superbia, perché noi abbiamo questa impronta che ci viene da lontano, da lontanissimo. Dentro di noi ci sono geni che vengono da millenni fa, insomma, praticamente. E dobbiamo rispettarli, solamente rispettarli possiamo attraversare la vita nel modo migliore possibile. Il massimo della vita, signora, andare a indagare su quella che era l'alimentazione degli esseri umani, e noi siamo uguali a quelli che vivevano appunto 3, 4, 5, 10 mila anni fa il nostro DNA, anzi manterrà alcuni geni di quei popoli lì, signora. Il latte è comparso nell'ultimo quarto d'ora della storia alimentare umana, i cereali sono comparsi negli ultimi 20 minuti e mezz'ora della storia alimentare umana. Non è mai esistita nella storia dell'umanità l'industria del latte e dei derivati del latte, mai. Da che esiste l'uomo sul pianeta è esistita, è cominciata a esistere negli ultimi 5 minuti, se si può paragonare a 24 ore, sono gli ultimi 5 minuti in cui esista, esistita la storia del latte per l'alimentazione umana, tutto lì, quindi per il resto l'umanità ha sempre mangiato altre cose. Cibo giusto e soprattutto verdura e pesce, pesce e verdura e carne giusta, perché ricordiamoci che il materiale fondamentale per le cellule sono sali minerali, vitamine e proteine, e una parte di grassi, soprattutto i grassi vegetali e quelli grassi animali adatti e adeguati. Le proteine, gli aminoacidi contenuti in quegli animali possono giovare tantissimi. Anche perché, parliamoci chiaro, l'umanità è arrivata fino al 2000 dopo Cristo, ma per centinaia di migliaia di anni, forse milioni di anni, non ha mai mangiato né latte né cereali, ha sempre mangiato quello che la natura gli metteva a disposizione. Pesci nell'acqua, uccelli nell'aria, animali sulla terra, un po' di bacche, di radici, di germogli, basta, stop. La natura, come programmazione per gli esseri viventi, umani, ha previsto questo. Che poi l'uomo, se si è ingegnato, abbia sviluppato determinate tecniche che l'abbiano portato a coltivare, a vedere che anche dei cereali poteva ricavare questo, che anche alterando un attimo la fisiologia di determinati mammiferi, poteva ricavarne latte e ricavarne altre cose. Ma staremo a vedere come finisce questa avventura. perché è avvenuta nell'ultimo attimo, perché questi pochi millenni che bene o male si usano queste, e sono gli ultimi attimi nella storia della vita umana. E ma se solamente vedendo quello che sta succedendo, e anche in tempi rapidi, secondo me c'è da drizzare subito le antenne e prendere la vecchia e antica strada che per millenni, che per centinaia di migliaia di anni ha permesso all'umanità di vivere sul pianeta. Però le proteine sono anche nel regno vegetale, e che proteine? Sì, e com'è che vengono utilizzate? Perché uno il pesce se lo mangia anche crudo, uno prende il salmone, il merluzzo o la trota, se la mangia anche cruda, con un po' di limone la mangia, e non ci sono problemi come l'umanità fatta per centinaia di migliaia di anni. Ma i legumi, perché siano introducibili, tanto tanto se uno li fa germogliare, ma se no hanno bisogno di una cottura prolungata, se no se uno pensa di nutrirsi con dei legumi crudi, ma se la sogna la storia. Ma la natura non l'ha previsto il vegetarianesimo, se non in casi estremi, la natura non l'ha visto. E a furia di ripetermi, lo dico, la natura ha messo gli uccelli nell'aria, i pesci nell'acqua e gli animali sulla terra, e sparsi un po' qua e là bacche, radici, germogli. La natura non ha mai messo un campo di grano o di riso da nessuna parte del pianeta, ce l'ha messo l'uomo. Ma adesso tutti i nodi vengono al pettine, per cui tutte queste patologie, adesso che ci siamo trasformati in grandi consumatori di cereali, tutti i nodi vengono al pettine. Malattie metaboliche, il diabete, poi adesso c'è il discorso dell'obesità tremenda, colesterolo alto, malattie cardocircolatorie, malattie renali. Queste, i nodi vengono al pettine. Ci sono voluti alcuni decenni, magari qualche centinaio di anni, ma che nella storia della natura, nella storia dell'umanità, sono come un attimo, come gli ultimi dieci secondi neanche. E i nodi stanno venendo al pettine. Per cui, o cambiamo strada, certamente ci siamo segati a tutta la grande capacità di sfamarci che ci davano i fiumi, questa grande possibilità. I fiumi che erano proprio un allevamento naturale di pesi. Ma c'è da dire una cosa, che l'unico alimento, gli unici alimenti che l'umanità ha sempre mangiato, sempre, sono sempre stati la carne e il pesce. A qualsiasi latitudine, che il vero stravolgimento dell'ambiente è cominciato quando l'uomo ha cominciato a deforestare per coltivare i cereali. Lì sì che c'è stato il grosso, grossissimo stravolgimento ambientale. Anche perché i cereali richiedono risorse, diciamo così, per quanto riguarda concimi e tutto quanto, notevoli. Senza contare che, come ho accennato prima per il MAIS, risorse idriche spaventose. Ma i popoli che rispettano di più la natura sono quelli che vivono solo ed esclusivamente di caccia, perché sanno che tutto deve vivere in equilibrio, che devono esserci sempre animali per poter esserci le loro, per poter avere le loro scorte alimentari. È l'agricoltura che distrugge tutto. Allora, perché farsi del male, signora? Ripensi e rimediti bene al discorso dell'animalismo. Pensi, i popoli più rispettosi dell'ambiente sono sempre e saranno sempre quelli che non hanno mai coltivato e che non coltivano mai un metro quadro di terra. Pensi, i pelle rossa, gli indiani d'America, ma anche adesso le civiltà, le civiltà, diciamo così, ancora proprio naturali che ci sono nell'Amazzonia, nel Borneo, nel Centroafrica, non coltivano niente, signora. Vivono di pesca, di caccia, di animali, di uccelli. Ed è lì. Perché praticamente i cereali non esistevano, non esisteva un campo di grano all'origine. Non c'eravamo, ma non esisteva. Perché l'uomo ha cominciato a coltivare i cereali dal 10.000, dal 10.000, facciamo pure conto, dal 15.000 avanti Cristo, ma in quantità minime, limitatissime. L'uomo ha cominciato a coltivare i cereali. Ha cominciato a disboscare le foreste, tirarci fuori dei campi, dei campi di grano e man mano selezionare, selezionare, selezionare. Per arrivare fino al secolo, al 1900, e soprattutto dopo il secondo dopoguerra, dove hanno cominciato a selezionare, a selezionare proprio qualità di frumento sempre, sempre più ricche di glutine. L'hanno messo in grande quantità e da lì, piano piano, piano piano, si sono sviluppate le prime intolleranze sotto forma di allergie respiratorie. E quello è stato il vaso di Pandora. Sottoponiamo ad esempio il pancreas, è un grandissimo stress. C'è da pensare che ad esempio noi continuiamo a mangiare cereali, carboidrati a tutto spiano. E il pancreas deve intervenire con i suoi enzimi. Però, in natura, i cereali, parliamoci chiaramente, la natura non li ha messi a disposizione dell'uomo. Poi l'uomo con le sue tecniche, con le sue tecnologie, mettiamoci pure con il suo ingegno, li ha messi alla base della sua alimentazione. Però rimane fermo che il DNA dell'uomo non è mica programmato per tollerare tutti questi cereali. Per mangiarne così tanti come ne mangiamo oggi. Infatti adesso tutte le patologie degenerative stanno venendo fuori, insomma, a testimoniare che c'è un qualcosa che non quadra nell'uso dei cereali. Anche lì, materia per i ricercatori, quando drizzeranno le antenne e invece di brancolare nel buio, per quanto riguarda le cosiddette patologie rare, andassero a vedere nei soliti noti, nei cereali, scoprirebbero che lì ci sta la causa principale di tutte queste patologie. I reni non li vogliono vedere gli amidi. I cereali, i reni, sono programmati per non vederli. Non li hanno mai visti per centinaia di migliaia, forse per milioni di anni. Nell'ultima parte della storia alimentare umana continuiamo a fargli vedere dei cereali, degli amidi. I reni non li vogliono vedere. Sono lì per eliminare le scorie delle proteine. La gente mi dice, ma poi con tutte queste proteine i reni cosa fanno? I reni faranno festa, perché i reni sono programmati proprio per eliminare le scorie delle proteine. fatemi vedere le proteine. Certo, le proteine giuste. Certo. Merluzzo crudo, salmone crudo. Guarda, anche dissalando, dissalando il, per bene, bene benissimo che non sia più salato, dissalando il baccalà, mangiandoselo a cubetti con il limone, ecco, si può fare del bene ai propri reni. La paleodieta cosa ne pensa? La paleodieta è scritta nel DNA. Allora non c'erano coltivazioni di cereali, anzi non esistevano quasi neanche, non esisteva neanche, tanto per dire, un pezzo di terra grande come questa fontana, tanto per dire, coltivata cereali. Gli esseri umani vivevano di quello che trovavano, come gli ultimi esseri viventi che hanno vissuto in quel modo, non sono stati migliaia e migliaia di anni fa. In Australia, gli aborigini vivevano di quello, in quel modo lì, in modo molto spontaneo, selvaggio, lo stesso i cosiddetti pelle rossa, i nativi, tutti quanti. E cosa mangiavano? I nativi americani, i cosiddetti pelle rossa, mica coltivavano orti, cereali, niente, andavano a caccia, andavano a pesca, si insediavano dove c'erano le condizioni adatte, magari si spostavano in base alle migrazioni degli animali, e tutto lì. La natura ha messo i pesci nell'acqua, gli animali, soprattutto mammiferi rettili sulla terra, e volatili nel cielo. Un po' di bacche qua e là, un po' di radici qua e là, un po' di germogli qua e là, un po' di frutti selvatici, ma non molti, mica certamente le melo, le pero, le pesche, come le vediamo adesso, che sono frutte di modificazione, varie e buon stop. Quello che è rimasto praticamente immodificato sono gli uccelli, i pesci e gli animali e le verdure, come può essere il tarassaco, lo spinaccio sondatico, come può essere, sì, come possono essere tutte queste verdure vegetali che l'uomo poi nei secoli, nei millenni, ha imparato a utilizzare.